Lei fa giovane. Io ero giovane. Ti giuro. Se lei oggi si ha detto una parola e io ho detto che ho imparato un'altra parola. Però se lei ha detto frutto d'utufra, adesso io ho questa parola ti ho indicato. Ha ragione. E il boss? Do you like boss? Of Tomato Guzzi. Tomato Guzzi. Tomato. Tommato, non ti sei Tomasso. Si Tomato. Tommato Ketchup? È davvero il quattro come Tomato Ketchup. Si? No, no, no. Pensiamo che ci sono qualcosa di più. Ok? Hai pitanci. Ti riso di Tomato Ketchup. Ok? Giorno. Non lo scrivo. Non lo scrivo. no no, no, io... questo qui lo sono... Che è successo con questi di Napoli? No, io non avevo vinto una... per adesso devo chiedere una prestazione professionale a lui tutto quello che vuoi